Cristina Bolla, Liguria, terra di fiction? Questa sera abbiamo una dimostrazione con il Digital Fiction Festival che mira a diventare un evento importante per questo tipo di fiction e di generi. Certo, diciamo che la Liguria sta diventando sempre più una terra da fiction come è stato presentato questa sera. La presenza di Gregory Fetussi in Liguria lo dimostra perché un attore a livello internazionale che ha sempre lavorato in produzione importante si è dimostrato subito interessato a venire al nostro festival e tutte le produzioni, anzi alcune tra le più importanti a livello mondiale, stanno arrivando a finale Liguria a questo festival. Quindi dimostra l'interesse delle produzioni e delle realtà che gravitano nel mondo delle fiction nei confronti del festival e questo per noi è già un successo. Una Liguria che si presta anche ai suoi scenari a diventare anche meta ideale dove girare delle fiction? Sì, lo abbiamo già dimostrato in questo anno con Petra, Mas Antonio che stiamo girando ancora in questi giorni e poi ci saranno sorprese per i prossimi anni e i prossimi mesi. Quindi memorizzate Liguria a terra da fiction.